Il concorso internazionale Le Parole di D'Annunzio ha riscosso grande partecipazione da parte degli studenti che hanno fatto pervenire alla giuria del premio 85 elaborati incentrati sull'illustrazione creativa di uno dei tanti neologismi coniati da Gabriele D'Annunzio. Parole come velivolo, scudetto, tramezzino e tante altre che il Vate ha inventato e che sono rimaste nell'uso comune della lingua italiana. Tra i 12 finalisti sono risultati vincitori ex equo, gli studenti Gianmarco Dell'Ovo e Gabriele Eva, Secondi classificati, sempre ex equo, gli studenti Martina Andrenacci, Desiree Berardinucci, Giada Cardelli, Gaia Raddadi, Francesco Ranieri. La giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con una menzione speciale gli studenti Elena Di Vita, Ginevra Marchetti, Monica Medori, Daniele Stoia e Benedetta Zaninello. Questi ragazzi riceveranno come premio nella giornata mondiale della poesia una biblioteca di poesia contemporanea gentilmente offerta da parecchie case editrici e sono 72 volumi di poesie di autori classici e contemporanei del Novecento e Viventi. Mentre le scuole dei due licei di appartenenza riceveranno due biblioteche d'Annunziane di 38 volumi ciascuna. Sono le pubblicazioni del nostro Centro Nazionale di Studi D'Annunziani ma sono anche altre pubblicazioni che ci sono state date da studiosi di D'Annunzio tra i quali voglio segnalare Franco Di Tizio.